Riti sicure e senza dispersione, centri alla società di distribuzione di Estra, si conferma anche nel 2013 tra i primi operatori italiani per qualità e sicurezza della rete gas, a San Cirlo l'autorità per l'energia elettrica, gas e sistema idrico. Arriva la nuova bolletta sintetica per i clienti Estra di gas e luce, più facile, trasparente e comprensibile. La bolletta 2.0 espone in sintesi e con grafica rinnovata i dati della fornitura, dei consumi e degli importi. Grazie ad Estra risplendono di nuova luce gli affreschi di Piero della Francesca nella Basilica di San Francesco ad Arezzo. Estra ha finanziato la manutenzione e la pulizia dei dipinti.